Alla fine di una lunga giornata in cui uno spiraglio era sembrato aprirsi, con il bilaterale fissato a Ginevra con Joe Biden, il presidente russo Vladimir Putin spiazza nuovamente tutti riconoscendo l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk in Ucraina orientale da otto anni in guerra col governo di Kiev. Lo fa in un lungo discorso alla nazione in cui ha esposto le sue ragioni. Considero necessario prendere una decisione attesa da tempo, ovvero riconoscere immediatamente l'indipendenza e la sovranità della Repubblica Popolare di Donetsk e della Repubblica Popolare di Lugansk. Chiedo all'Assemblea federale della federazione russa di sostenere questa decisione e poi ratificare i trattati di amicizia in mutua assistenza con entrambe le repubbliche. Immediata la risposta di Nato e Bruxelles che annunciano sanzioni per tutti coloro che saranno coinvolti nel riconoscimento. In un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen definisce la mossa come una palese violazione del diritto internazionale, dell'integrità territoriale dell'Ucraina e degli accordi di Minsk, annunciando che l'Europa e i suoi partner reagiranno con unità e fermezza. Nel decreto con cui ha riconosciuto le repubbliche separatiste Putin avrebbe ordinato un dispiegamento di truppe per assicurare la pace nel Donbass in seguito alla richiesta dei leader delle due enclave filorusse dal 2014 in guerra con le forze di Kiev.